Questo è un biacco di 4 anni, lungo 1 metro e 20 centimetri. È un serpente non velenoso che possiamo trovare anche nelle nostre campagne e nei giardini. Come è successo a Rosciano di Fano, dove nei giorni scorsi un esemplare era rimasto incastrato in una rete. Ma niente paura, nonostante sia una specie di urna, se disturbata dall'uomo preferisce la fuga. Quando viene bloccata dispensa rapidi morsi, come questo, ma non sono potenti. Il biacco, poi, non è l'unico serpente che possiamo trovare dalle nostre parti. Ce ne sono solamente 4, che sono il biacco, il saittone, la bisciata alcolare e la bisciata sellata. E non solo di questi è velenosa, meno per l'uomo. Non sono animali pericolosi e sono tutti animali protetti. Quindi, insomma, non sono da uccidere, non sono da maneggiare, non sono da lasciare stare, perché sono importanti per l'ambiente, sono importanti per l'ecosistema in cui si trovano. Ogni serpente ha il suo carattere, ci spiega Cristian. Il biacco è il più mordace. Il morso di un biacco è paragonabile al graffio di un gatto, quindi è un po' relativo. Poi c'è il saittone, che è un po' meno mordace, però anche lui tende a mordere, però comunque siamo sempre nel graffio di un gatto. Poi abbiamo le natrici, quella da tassellata e quella alcolare, che invece non mordono quasi mai. Proprio se mordono sono veramente costrette e sono veramente al limite, perché quello che fanno, hanno come strategia di difesa quella di fingersi morte. Si chiama tannatosi, quindi mettono in scena una sorta di teatrino in cui fanno finta di essere morte, si cospargono di odori, di cose un po' nauseabonde e questo permette all'animale di spaventare, insomma, di mandare via il predatore. Sempre di recente c'è stato un avvistamento a Pesaro. Sì, c'è stato un avvistamento al parco Miralfiore. Inizialmente si pensava fosse un boaco strictor, che è un serpente sudamericano e ha delle dimensioni importanti, può raggiungere anche 3, a volte anche 4 metri, a seconda degli individui. Però in realtà era un comune biacco, era un comune serpente nero, quelli che si trovano comunemente. E sono molto diversi, cioè il biacco ha una forma molto più longilinea, ha una dimensione più piccola rispetto a un boaco strictor, che invece è più grande. Il boaco strictor poi è esotico, mentre il biacco è uno strano, è molto comune. Chi si può contattare in questi casi? Allora, se dovesse capitare di trovare un serpente in un giardino o in casa e magari si volesse portare via, si può contattare o casa Archilei oppure l'argonauta. Dopo magari gira un numero a me e poi passo io a controllare la situazione e a recuperare l'animale. Però sono finito. E? Cosa, il giovane è giovane o...? No, no.